Salve a tutti cari ragazzi di Alphagamer, in questo piccolo video lo so non è un vlog, non è niente, è una comunicazione di servizio per dirvi che non sono sparito, no, sono ancora qui, vivo e vigito avete visto solo gli ultimi due video di Minecraft e non ho più fatto niente per un semplice motivo che, come si può dire, la team ha fatto un bel regalo con l'aggiornamento dei driver io ho dovuto formatare anch'io come tempo fa era successo tempo fa, come la settimana fa diciamo lo successo a Gabri e comunque ragazzi è un video pronto da montare delle recensioni di un gioco che abbiamo fatto io e Gabri quindi spero a breve di poterla finire di montare e caricare che quello è già pronto poi spero di riuscire a fare in tempo accesso anche Scrabble Nauts e Minecraft ma non lo so Minecraft probabilmente si, Scrabble Nauts non ne ho idea, non ne ho proprio più quali di idea se riuscirò questo comunque, la prossima settimana arriva, inizio e fine settimana non lo so ma arriverà tranquilli che arriverà beh ragazzi vi lascio, video di neanche un minuto solo per comunicarvi che sono ancora vivo, si sono ancora vivo ciao a tutti ragazzi